questa è l'uva fragola bianca al mio orto fra un mese inizia la maturazione quindi ho sia l'uva fragola nera e quella bianca questa è quella bianca mentre questa è la pizzuzella o chi mangia uva quest'anno ce n'è molto di uva di pizzuzella guardate quanto è bella molto digeribile soprattutto questa siccome ce l'ho molta la metto dentro cassettine basse di legno dentro al magazzino si asciuga praticamente e si mangiene fino a marzo diventissi capa l'uva